L'incidente nel pomeriggio di lunedì 18 novembre, poco dopo le 16, sulla provinciale 13 Dir, che collega Sarassa a Valperga, nel territorio di Valperga, coinvolti un SUV della Kia, condotto da un uomo di Valperga, e una moto Fantec 50 Motab, con a bordo un giovane del 2008, residente a Bairo. L'impatto è stato alquanto violento. Secondo una prima ricostruzione, pare che la moto abbia tamponato la vettura. Sul posto sono intervenuti le ambulanze della Croce Bianca del Canavese, il soccorso avanzato della Croce Rossa di Castellamonte, l'elisoccorso del 118, i carabinieri di Livorolo Canavese e del nucleo radiomobile di Ivrea e la polizia locale. Il giovane è finito a terra. Dopo le prime cure è stato ritrasportato all'ospedale CTO di Torino. Non è in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Disaggia il traffico per la chiusura temporanea del tratto in entrambe le direzioni. Grazie a tutti.